Se uno va bene, se piangi non va bene, e quindi ho detto ma perché bisogna frenare? Perché c'è da essere questo pudore di fronte all'emozione che è una cosa più bella e più vera che abbiamo. Allora io guardo bimbeni, i bimbi, sono molto scanto, non direi, guardo bimbeni, però non interessa di stare in terra, di ridere, di correre, di urlare, di gioire se c'è qualcosa di bello. A me tante volte mi succede di una cosa.